Si archivia anche la 33esima edizione del concorso nazionale polifonico di Arezzo. 14 cori provenienti da tutta Italia che hanno preso parte al concorso e distinti in tre categorie. Cori misti quelli dai 16 ai 40 coristi, cori pari da 12 a 40 ed infine cori vocali da 4 a 16 coristi. Sicuramente è un'edizione molto partecipata, abbiamo avuto 14 cori partecipanti, abbiamo avuto cori che arrivavano dalla Sicilia al Trentino, dal Piemonte, a tutta la nazione, anche campagna, anche regioni che erano un po' di anni che mancavano all'appello. Abbiamo avuto sei gruppi vocali di altissimo livello che hanno portato il livello della manifestazione veramente in un livello quasi internazionale. Una giuria composta da docenti e musicisti italiani con un presidente straniero, il maestro Peter Broadbent, che ha tenuto come l'anno scorso una masterclass, quindi tante cose, tante iniziative. Gli anni passati c'era soltanto il concorso, mentre quest'anno abbiamo aggiunto un concerto finale in cui tutti i cori alla Pieve, essendo circa 300 persone, si alternano cantando per gli altri, così è un momento anche di condivisione, un momento in cui ascoltano senza la competizione la voce degli altri e condividono il canto. Grazie a tutti.